Arrivare a quota 27 punti con una partita ancora da giocare al termine del girone d'andata è già una grande impresa, tutti ci avrebbero messo la firma, l'ho sottolineato anche Taurino nella conferenza stampa pre-partita contro il Foggia, manca l'appello, la sfida contro la Juve Stabia in programma domenica, dopodiché sarà giro di Boa e la Virtus Franca Villa ancora l'occasione di poter chiudere a quota 30, un risultato che sarebbe pazzesco, che salterebbe il gran cammino di Perez e compagni Numeri incredibili si era portati a quelli dello scorso anno, quando con Trocini e Colombo i biancazzurri tagliarono il traguardo della salvezza con appena 38 punti in tutto il campionato Intanto riprendono oggi i lavori alla nuova Red Arena dopo due giorni di assoluto relax per i calciatori, un modo semplice per staccare la spina, rigenerarsi, premere il reset dopo il cappodolo Zaccheria e preparare con serenità e il massimo dell'attenzione il match contro la Juve Stabia di domenica pomeriggio Prenderanno parte la gara Maiorino e Pierno, il primo uscito nella ripresa della sfida contro il Foggia ha subito un affaticamento, il secondo non rischiato contro i rossoneri riprenderà posto sulla corsia di destra